Occhio alla notizia in studio Marco Ferri Vediamo insieme i titoli del nostro sommario Purtroppo noi combattiamo con un virus che non perdona e che non comprende Sappiamo le nostre disponibilità e a che punto siamo arrivati Noi stiamo veramente non al collasso ma sul bordo del precipizio Oltre 900 persone contagiate dal virus e scoperte nelle ultime 24 ore Nelle Marche 11 persone decedute Io sarei in qualche modo già come dire contento Riuscissimo a raggiungere entro l'ottunno Entro diciamo quindi comunque il periodo successivo all'estate Sono molti negozi costretti a chiudere perché in zona rossa Tra quelli che invece possono rimanere aperti Sono pochi quelli che fanno affari Abbiamo notato che le persone acquistano i fiori ben volentieri da tenersi in casa Un po' come una sorta di rivincita Presentata l'ottava edizione di Passaggi Festival In programma fanno dal 18 al 25 giugno Per la rassegna di libri nuova immagine e diverse novità A Monteporzio c'era anche il sindaco del paese A festeggiare i cento anni di Enedina Che appena cuoda ancora una mano alla figlia nel negozio dei fiori Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia sul canale 17 di Fano TV Ben ritrovati cari telespettatori La situazione della pandemia nelle Marche Più di 900 positivi individuate nelle ultime 24 ore Nella nostra regione 11 persone decedute Ospedali quasi tutti al limite della capienza Simona Zonghetti oggi ha intervistato Daniela Corsi Che è la direttrice della terapia intensiva del Covid Hospital di Civitanova Marche Un anno fa l'emergenza sanitaria travolse prima la provincia di Pesero Urbino E poi il resto della regione Oggi è il contrario, i territori più colpiti sono quelli dell'Anconetano e del Maceratese In quest'ultimo, a maggio dello scorso anno Fu inaugurato il Covid Hospital di Civitanova Soprannominata all'astronave di Bertolaso L'opera dedicata all'emergenza costò 12 milioni di euro E fu suddivisa in sei moduli Da 14 posti letto ognuno Attualmente sono cinque i moduli attivi Che ospitano pazienti in terapia intensiva e in semi-intensiva Un grande lavoro dei sanitari sotto la direzione di Daniela Corsi Continua l'emergenza Noi alcuni giorni fa abbiamo preso sei pazienti dalla provincia di Ancona I nostri pronto soccorsi stanno lavorando al massimo Abbiamo sempre i posti totalmente occupati In area vasta 3 abbiamo due medicine Covid Una a macerata nella palazzina ex malattie infettive Che è completa di 42 pazienti E il reparto di medicina Covid di Camerino con 17 pazienti Però manteniamo sempre un turnover Se ci sono pazienti poi trasferisti Che escono dalla Fuzzi E subito i posti letto vengono rioccupati Questa terza ondata che ci aspettavamo Prosegue la direttrice Ha colpito una popolazione più giovane E ha provocato danni polmonari precoci Molti degenti hanno tra i 40 e i 60 anni Ci sono stati alcuni casi di persone Che si sono positivizzate una seconda volta Ma con un quadro clinico più lieve Rispetto al primo contagio La Corsi poi ha dato un parere Sulle nuove restrizioni adottate a livello regionale Purtroppo noi combattiamo con un virus Che non perdona e che non comprende Io da medico dico che queste sono scelte Che dovevamo assolutamente fare Perché se non avessimo adottato La scelta di trasformare in zone rosse Io penso che la sanità Visto in che condizioni stiamo lavorando Avrebbe subito il colpo finale Sappiamo le nostre disponibilità E a che punto siamo arrivati Noi stiamo veramente non al collasso Ma sul bordo del precipizio Parole forti quelle della direttrice Che parla anche di forma di rispetto Verso chi si sta impegnando Ed è in prima linea nella lotta contro il covid L'elemento fondamentale Ora è la disponibilità delle dosi di vaccino Noi come macchina da guerra diventata Stiamo lavorando al massimo dei ritmi Avere i vaccini è quello l'elemento fondamentale Se ci danno i vaccini Noi lavoriamo giorno e notte Perché siamo consapevoli Che l'unica arma di cui disponiamo È la vaccinazione Ne usciremo presto dottoressa Guardi un conto è avere praticamente l'idea Io l'augurio ce lo facciamo tutti Perché siamo arrivati a un livello di sopportazione Proprio al limite Che poi effettivamente sul lato pratico Ci se ne esca a breve No, questo non lo credo Intanto salgono i contagi Nella nostra regione Nelle ultime 24 ore Più di 900 persone Sono state trovate positive Al covid-19 Uno dei dati più alti Mai registrato nella nostra regione Dall'inizio della pandemia La provincia più colpita Rimane Ancona Con 339 contagi Seguite da Peso Rubino Con 194 Negli ospedali ci sono nove ricoveri in più Rispetto a ieri I pazienti in terapia intensiva Sono 107 Mentre quelli in semi-intensiva Sono saliti a 203 Adesso parliamo invece del focolaio Focolaio che è scoppiato All'interno del carcere pesarese Di Villa Fastigi Perché oggi il garante dei diritti Giancarlo Giulianelli Ha inviato una lettera Al direttore della Casa Circondariale Al coordinatore regionale Della sanità penitenziaria E all'area Vasta 1 Per far luce sulla vicenda Giulianelli Anche lui positivo al Covid Ha chiesto Quali procedure sono state attivate E a che punto è Il piano di vaccinazione Dei detenuti E del personale Di polizia penitenziaria E di vaccini Si è parlato Oggi pomeriggio Con i dottori Dell'area Vasta 1 Dell'Asur Che hanno fatto Il punto Sul piano di somministrazione Delle dosi Carenza di dosi Di personale sanitario E punti di vaccinazione Da rivedere Tra le misure Per fronteggiare L'emergenza epidemiologica C'è la somministrazione Del siero anti-Covid Se da una parte Si attendono nuove disposizioni Da parte del governo Dall'altra Continua senza sosta Il lavoro Dell'Asur Area Vasta 1 Oggi pomeriggio I dottori Augusto Oliverani E Marco Monaldi Del dipartimento Di prevenzione Hanno illustrato Il piano vaccini Nell'ambito Di Fano Cammina Un progetto Nato quattro anni fa Insieme al dottor Massimo Agostini Che pone particolare Attenzione Alla prevenzione E alla divulgazione Di tematiche Inerenti alla salute Insieme a medici E professionisti Del settore Che si mettono A disposizione Dei cittadini Noi stiamo Terminando La vaccinazione Degli over 80 E però Abbiamo già iniziato A chiamare Anche alcune Classi Speciali Tra cui Gli insegnanti Ma è prevista Anche la chiamata Di altre forze Importanti Per la vita Del nostro paese Come le forze Dell'ordine E in questa Seconda fase Inizieremo a chiamare Anche i soggetti Con patologie Per quanto riguarda Il personale Invece L'Asur Lavora a pieno regime Cercando di suddividere L'impegno dei sanitari Tra le vaccinazioni Ordinarie E quelle anti-covid Chiaro che non saremmo Sufficienti Non sarebbe sufficiente Il nostro apporto Per cui Stiamo attingendo Anche Alla collaborazione L'importante collaborazione Che ci viene data Da medici Ecco Che hanno dato La loro adesione Anche di specializzanti Io direi Aggiungo A mio avviso Anche neolaureati E il dottor Monaldi Ha accolto In maniera favorevole L'accordo con i medici Di medicina generale Per raggiungere In particolare Le persone in difficoltà O i diversamente abili Si parla anche Del coinvolgimento Dei pediatri E della categoria Degli odontoiatri L'Asur così Spera di arrivare Quanto prima Alla copertura Di almeno 75% Della popolazione E l'immunità Di gregge Potrà essere raggiunta Nel periodo estivo Mi sembra un po' Vicina Questa 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 prospettiva Io Sarei In qualche modo Già Come dire Contento Riuscissimo A raggiungere Entro l'ottunno Entro diciamo Quindi comunque Il periodo Successivo all'estate Poi Se dovessimo avere Un aumento Sia del personale Sia dei vaccini E quindi Implementare Andare a pieno regime Perché no Magari anche Anticipare i tempi Sarebbe auspicabile E anche Forse anche possibile La regione Marche Ha ricevuto Più dosi Di vaccino Di quante Ne abbia Dichiarate Un fatto gravissimo Su cui Pretendiamo Spiegazione A denunciarla A denunciarlo È Alessia Morani Deputata del partito Democratico Grazie ad una Richiesta di accesso Agli atti Spiega la Morani Emerso Che sono oltre 211.000 Le dosi consegnate Alle Marche Non 176.000 Come riportato Pubblicamente Dalla Giunta Al tempo stesso Le dosi somministrate Sono più di 146.000 Contro le 155.000 Dichiarate Questi dati Conclude la Morani Mostrano che Mancano all'appello 35.000 vaccini E che il rapporto Tra dosi somministrate E quelle consegnate Scenderebbe Dall'87,7% Dichiarato Da Saltamartini Al 69,1% Poco fa Invece è arrivato Da parte Della Lega Un comunicato Che parla Di dati Sbagliati I dati diffusi Dal PD Attraverso L'ex Presidente Del Consiglio Regionale Antonio Mastro Vincenzo E l'ex Presidente Della Giunta Anna Casini Si dimostrano Sbagliati Per stessa Ammissione Degli uffici Che li hanno Forniti Il sistema PD Che ha gestito Per vent'anni La sanità Delle Marche A livello Politico E tecnico Nel tentativo Di denigrare Ancora una volta Senza motivo La Giunta Regionale Perde la faccia Di brutto Lasciando spazio Ad ogni Dietrologia E dalla sanità All'economia L'effetto Lockdown L'effetto Lockdown Pesa sulle attività Commerciali Che hanno dovuto Chiudere i battenti Pochi sono i negozi Rimasti Aperti Che comunque A causa delle restrizioni Stanno subendo Un duro Contraccolpo Angelica Panzieri Zona rossa Sì Ma qualcuno Si salva Eppure è da un anno Che le cose Nel mondo del lavoro Non vanno più Come prima Fiorai Rivenditori Di giocattoli E beni Di prima necessità Ferramenta Come altre categorie Annoverate Tra i servizi essenziali Restano aperti Anche a Pesaro Ma l'affluenza Per via delle nuove restrizioni Scarseggia Anche qui Così dopo un anno Sono proprio loro A tirare le somme Di quel che è cambiato E di tutte le ripercussioni Che stanno subendo Non c'è nessuno In giro Purtroppo Per colpa di questo Siamo messi un po' così Andiamo avanti E vediamo Le ferramenta Tra l'altro Erano rimaste aperte Anche durante il primo lockdown Un anno fa Sì Si poteva stare aperte Io sono stato chiuso I primi 20 giorni di marzo Perché qui la situazione Era pesante Poi dopo ero aperto Ma non c'era nessuno uguale Anche se stavi Mezza giornata aperto Non è che cambiava molto Se la passano un po' meglio Rivenditori Dei beni Di prima necessità Per l'infanzia Che nonostante Il calo del lavoro Per via della pandemia Hanno iniziato a lavorare Anche su prenotazione Nell'ottica di evitare Assembramenti inutili In negozio Il cliente viene avvisato prima E sa già quando può ritirare La sua merce In questo settore qui Tantissimo sulla prenotazione Perché la vendita giornaliera Non c'è più Le mamme Vengono già da prima A vedere Questi articoli Queste cose Che potrebbero essere necessarie Noi siamo stati Tra i primi A riaprire Durante il vecchio lockdown E anche là Quella volta Era stato un pochino Un pochino più difficile La cosa Perché anche Le stesse aziende Fornitrici Avevano tardato Nelle consegne Dei prodotti Ci siamo trovati Un attimo in difficoltà Quest'anno Tuttora Anche in questa mattina Ho ricevuto merce I corrieri Tranquillamente Consegnano E se da un lato Il mondo del lavoro Subisce le sue trasformazioni Dall'altro In tempi di covid Continuano gli acquisti Che riescono ancora A portare nelle case Un po' di serenità Come quelli legati Al mondo delle piante E dei fiori Abbiamo notato Che le persone Acquistano i fiori Benvolentieri Da tenersi in casa Un po' Come una sorta Di rivincita A quello che è Non lo stare a casa Perché la gente Lo capisce Ma a Logicamente Non avere comunicazione Quindi socialità E noi cerchiamo Di fare il nostro lavoro La Guardia di Finanza Di Pesaro Ha smascherato Una donna Di 48 anni Di Vallefoglia Che ha percepito Il reddito Di cittadinanza Senza averne Il diritto La donna Aveva nascosto Le vincite al gioco E i redditi Del marito Aveva ricevuto Il reddito Di cittadinanza Per un totale Di oltre 11.000 euro Ma si era dimenticata Di dichiarare Le vincite al gioco E i redditi del marito Evasore totale Per 123.000 euro Una 48enne Di Vallefoglia È stata smascherata E denunciata Dalla compagnia Guardia di Finanza Di Pesaro Gli accertamenti Delle fiamme gialle Svolti in sinergia E in collaborazione Con l'Inps Hanno permesso Di appurare Che quanto dichiarato Nella domanda Presentata all'istituto Non corrispondeva Alla disponibilità Patrimoniale Della famiglia La donna infatti Aveva omesso Di dichiarare Ai Finisee Le vincite Conseguite Con i giochi online Per un ammontare Di circa 300.000 euro Per gli anni 2017 e 2018 Inoltre Non aveva comunicato Pur essendone obbligata Nell'acquisto Di un'autovettura Né che due componenti Del proprio nucleo familiare Fossero stati Nel frattempo Assunti Come lavoratori dipendenti Tutte queste falsità Hanno consentito Alla 48enne Di percepire Indebitamente Nel 2019 E mantenere Lo scorso anno Il reddito Di cittadinanza Per un importo Complessivo Di 11.825 euro La donna Non avendo I requisiti Per beneficiare Del contributo È stata segnalata Sia all'autorità Giudiziaria Per aver percepito Erogazioni Senza averne diritto E ai danni Dello Stato Che all'Inps Competente Per la revoca Del sostegno E il recupero Della somma incassata I carabinieri Di Urbino Invece Nella giornata Di ieri Hanno effettuato Un servizio Straordinario Di controllo Del territorio Sia per verificare Il rispetto Delle misure Anticovid Legate alla zona rossa Sia per reprimere E prevenire i reati In genere Durante i controlli A Fermignano In provincia di Piesa Urbino È stato arrestato Un 44enne Di origine magrebina In passato Aveva già ricevuto Un ordine di carcerazione Per violazioni Sulle norme Sugli stupefacenti Al momento Della verifica Nella sua abitazione Militare Hanno trovato Altri 20 grammi Di hashish Tradotto in carcere A Rimini Dovrà scontare Una pena di Un anno E quattro mesi Il servizio Di pattugliamento Dei carabinieri Ha interessato Anche la città Di Urbino Nell'ambito Dell'operazione Sono stati controllati Più di 30 veicoli E identificate 40 persone È stata elevata Una sola contravenzione Il codice Della strada Adesso parliamo Invece Di passaggi festival È l'unico Per momento Appuntamento In programma Ufficialmente Nel calendario Degli eventi Di Fano Passaggi festival Si terrà Dal 18 Al 25 Di giugno E questa mattina È stata presentata Questa nuova edizione La seguita per noi Filippo Pucci Quella del 2021 Sarà l'ottava edizione Di passaggi festival L'evento diretto Da Giovanni Belfiori È dedicato Alla saggistica Con la presentazione Di libri Letture Mostre d'arte Laboratori E spettacoli Come per lo scorso anno La macchina organizzativa Si sta adoperando Per svolgere la manifestazione Nel modo più sicuro possibile Applicheremo tutte le norme Di sicurezza anti-covid Che abbiamo già applicato Nel 2020 E se ce ne saranno di nuove Siamo pronti Anche in questo caso Ad affrontarli L'edizione di quest'anno Sarà carica di appuntamenti In programma Dal 18 al 25 giugno Nelle storiche location Del centro città E non solo In piazza La rassegna Libri in piazza In piazza 20 settembre Alla chiesa di San Francesco Le rassegne Passaggi di benessere Mente, anima, corpo La rassegna di poesia Passaggi diversi E poi la rassegna di saggistica Libri alla San Francesco Al Pincio le due rassegne Quella di graphic novel Passaggi fra le nuvole E poi quella di musica in social Fuori i passaggi Alla Mediateca Montanari Le rassegne per i più piccoli E piccoli assaggi L'assaggistica per diventare grandi Alla Sala Latè Lucelin Belverde Tornano gli aperitivi scientifici Con l'università di Camerino Ma la novità di quest'anno È che al mattino Nel lungomare del Lido Come già l'anno scorso E novità Di Torrette Presenteremo libri Alle 9.30 Appuntamento al Bonbon del Lido E a Bagni Torrette Appunto a Torrette Con Buongiorno Passaggi Libri a colazione Durante la conferenza Presentata l'immagine ufficiale Del festival Un'opera realizzata Da Federica Campanelli E Federica Falciasecca Che rappresenta graficamente Il tema dell'edizione 2021 Di infinito e provvisorio Dove una figura umana Con ali di farfalla Rimane in equilibrio Su un filo fatto di parole Del verso di Dante Tra le novità Anche una nuova rassegna Curata dal direttore Di Rai Radio 3 E componente Del comitato scientifico Dell'evento Marino Sinibaldi La mia rassegna Si intitola Anno per anno Perché il progetto Che ahimè Era nato pensato Anche per un'edizione Che invece è stata Un pochino Un pochino Complicata L'anno scorso È quella di presentare Ogni anno 3-4 autori Che ci aiutino A leggere Quello che ci sta succedendo Perché i libri Sono molte cose Sono evasione Divertimento Passione Però ci sono anche libri Che possiamo usare Specie in questo momento difficile Per capire E registrare In qualche modo Le nostre sensazioni E le nostre idee Proprio mentre stanno accadendo Quindi sceglieremo Ogni anno Libri che hanno Un rapporto fortissimo Con diretto O indiretto Con i pensieri Le angole O inquietudini In qualche caso O i sogni Del momento Che stiamo vivendo E a Castelvecchio Di Monteporzio Festa per i cento anni Di Enedina Francesconi A farle gli auguri Anche il sindaco Del paese È la vista Perché se no Io vorrei fare Vorrei Per la forza Che so Però È la vista È Gli anni ci sono È inutile È un po' birichina Sì Sì Ha tre figli Cinque nipoti E otto pronipoti È nata a Monteporzio L'undici marzo 1921 Ma ha vissuto a Mondavio Per diversi anni Fino a ritorno Nel luogo di origine È una festa Tutta in famiglia Quella organizzata Per Enedina Francesconi Che oggi Compie cento anni Una torta Con le candeline I regali Uno striscione Dedicato E il calore Dei cari Hanno riempito Questa giornata Vissuta in casa A causa della pandemia Come sta? Oggi è una giornata importante E come sto Come sempre Sì È in forma Solo che io Volevo una vecchiaia Più in compagnia E ho mia figlia Ma è sempre occupata E io Sa Bisogna che lascia la mano Ma forse che posso Infatti La casa in cui vive Enedina È comunicante Con il negozio di fiori Di sua figlia Nives Bettini E quando può La centenaria Si tiene impegnata E aiuta a preparare Le composizioni floreali Ho fatto la scuola A Monteporcio La scuola elementare E poi dopo I miei sono trasferiti Su quel mondale Hanno fatto la casa Che tutte le famiglie Erano troppi E torno su E adesso Quanto ho bisogno Vengo qui Che mamma è? Mamma è stata La mamma grande Ha fatto tanti sacrifici Per tutti Ha lavorato In campagna Ora è qui con me È stato il mio grande Supporto Aiuto Specialmente Affettivo Una per l'altra Perché comunque Tanto siamo In simbiosi Vicine E Il mio grande aiuto Soprattutto quando È venuto a mancare Mio marito E sì È stato un supporto Per tutti Sta bene Anche se ha lavorato In campagna Erano due grandi Signori della vita Babbo e mamma E a fare visita Alla festeggiata Anche il sindaco Di Monteporcio Giovanni Breccia Ci tengo insomma Ad essere qui A portare un piccolo presente Per i cento anni Che sono Un traguardo importantissimo Pensiero che anche da parte Del sindaco di Mondavio Però hai vissuto Ecco tanti anni a Mondavio Quindi lui sarebbe venuto Volentieri Visto il secondo giorno Di zona rossa Insomma Ci impone Il rispetto Delle norme Insomma Abbiamo visto la signora Che è davvero Davvero L'informissima C'è una grinta incredibile Quindi fa davvero Estremamente piacere Essere qui E insomma Salutarla In realtà ci vediamo Abbastanza spesso Però no L'occasione È davvero importante Poi tra l'altro I prossimi giorni Avevremo altre due centenarie A Monteporcio Quindi no Sono andate a scuola insieme Sono andate a scuola insieme Quindi un mese Un mese Di marzo e aprile È davvero ricco Da questo punto di vista Perché Insomma Ci fa piacere Che si arrivi A una certa età Con una grinta del genere Ci metterei la firma Anche a voi Tanti auguri Bene E adesso Ci salutiamo Invece Perché il telegiornale è finito Tra poco La pubblicità Le previsioni del tempo Poi un approfondimento In studio Sulla rassegna di arte Cultura E pari opportunità Dal titolo Impronte femminili Noi ci vediamo Domani mattina Alle sette Come sempre puntuali Per commentare Le pagine dei giornali Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.